Sarà la Corte d'Assisa a decidere sulla sussistenza della gravante e quella della convivenza. Se dovesse cadere si spiana la strada per il rito abbreviato. Il 13 marzo, insomma, i magistrati decideranno se Massimo Pestrin, che il 3 maggio scorso uccise a colpi di pistola il fratello e la cognata, potrà beneficiare di uno sconto di pena. Qualora la Corte d'Assisa, come io sono convinto, escluderà l'aggravante, c'è un recupero del giudizio abbreviato che era stato chiesto e quindi comunque la riduzione di un terzo della pena. Ma non solo. L'altro aspetto è la necessità, secondo noi, di una perizia psichiatrica necessaria per valutare la totale o parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, stante la presenza di elementi oggettivi e soggettivi che consigliano un approfondimento in questo senso. Primo fra tutti il fatto che non si capisce la ragione di questo duplice omicidio, né il motivo né tantomeno il movente. Lui continua a dire che non ricorda? Lui continua a dire che ha avuto un blackout, un cortocircuito, non riesce a spiegarsi le ragioni di questo duplice gesto. Massimo Pestrin, quel 3 maggio, era sceso in cucina armato di pistola. Il fratello Linio e la cognata Rosanna Trento stavano pranzando. Lui li ha freddati con 11 colpi. Poi era uscito di casa ed aveva chiamato i carabinieri. Numerosi bossi erano stati trovati anche sulla soglia della porta che conduce al piano superiore. In tutto pare che il cinquantenne abbia fatto fuoco 17 volte.